Dispiaciuto, dispiaciutissimo, dispiaciutissimo. Oggi non metto la maglia di questo signore perché non se la merita. Forse lui è il unico che oggi veramente non si merita di vestire questa maglia perché i ragazzi sono stati favolosi. Dispiace perché un rigore al 97esimo, dubbio. Non voglio usare le parole di Buffon perché sarebbe ridicolo, ma a me un rigore così dubbio al 97esimo, perdi la partita, non ti puoi lamentare della prestazione. Non puoi. Si apri un vantaggio, gli hai messo sotto nel primo tempo, hai preso una traversa che sta ancora tremando, hai fatto di tutto e di più, hai fatto la partita superlativa. La sconfitta è solo un numero, la sconfitta è solo un numero che sta in alto a sinistra sulla TV. E come detto già da partita con Liverpool, vada a fine come vada a finire, il nostro obiettivo era giocarla. Perché se non vai fuori ai gironi, vai fuori agli ottavi. Non è l'anno che possiamo passare ai gironi. C'è comunque qualcun altro che comunque sia con una squadra nettamente più forte andrà fuori ai gironi. Quindi amici milanisti state tranquilli. C'è qualcun altro che gode, che gode che a dicembre ci verrà fede da bere perché ci troviamo nella stessa osteria da febbraio in poi. E ci ne andremo a raccontare di belle. Questo uomo si è fatto esperto dopo 30 minuti, ci ha lasciato i 10. Fado in genuo, con anche un po' di peperino nell'arbitro. C'è da dirlo, non c'è da attaccarsi di episodi arbitrali, è vero. Non c'è da attaccarsi di episodi arbitrali. Però ogni tanto vanno un po' menzionati, soprattutto se ti fanno prendere il risvolto da uno svolto negativo alla gara che stai facendo. Gara positiva, gara che se fosse stata una gara di campionato non avremmo giocata così. Perché la Champions League è un'altra squadra. Però nel campionato una gara così avresti vinta con chiunque. Abbiamo dato una squadra che è un attacco che costa quattro volte la tua rosa. Quindi fa capire che quando stai qua cominciano a mettere dentro Griezmann, cominciano a mettere dentro Le Mar, cominciano a mettere dentro chi vogliono. Diceva Simone, va alla panchina, dici che oggi ti vuoi e vuoi giocare. Tu, vieni, andiamo. Domenica giochi tu, eh. Tanto a me non cambia nulla. Quando giochi contro una squadra così tu che hai riservi contatti, tu che ti esce Revic, ti entra Bellegri, capisci che se vinci, è un miracolo se vinci, non se perdi. Loro gli è passato spingere dieci minuti, fino all'ottantesimo stavamo 1-0. Non ci stavo a credere. Poi una varia circostanza di cose ha fatto sì che la partita si perdesse. Bella, ma è la prima volta che perdiamo il novantesimo, non sarà l'ultima e non sarà mai l'ultima volta che affronteremo una squadra così forte. Fa male, dispiace, fa male, certo. Certo, nel 2013, perché nel 2014 mi ha fatto le partite, nell'altro contro la Tete comadre ho perso la Tete duro. Siamo a sperare nel Porto e sperare in pareggi tra Liverpool e Tete comadre, anche se la cosa pare un pochino utopica. Diciamo che potremmo comprare il pareggio, potremmo farlo, con questa partita potremmo pareggiarla. Vincerla era tosta, solo che quando tieni duro, tieni duro il tuo portiere si fa male, perché Mignan non sembra si è fatto male, Tonari si è fatto male e a un certo punto ha perso fino alla valida, tutti rotti, tutti distrutti. Questi qua hanno spinto due minuti, hanno fatto due gol. Uno bello, bellissimo, mezza cappella di Florenzi, che ragazzi è un acquisto che io non ho ancora capito perché sia stato fatto, e più che altro perché venga continuato a mandare in campo. Florenzi, ragazzi, ok, non è che mi aspettassi, non è che con Florenzi mi aspettassi di avere, non lo so, Kyle Walker, non è che mi aspettassi di avere Carvacal, però diciamo che mi aspettavo forse qualcosa di più. da uno come Florenzi, che comunque è andato a vivere a Roma non perché era scazzo, ma perché ha fatto un po' di casini e gli hanno fatto un po' di casini a sua volta. Se non sarebbe ancora a giocare in Roma e penso che al posto di Casdorp giocherebbe tranquillamente. e gli amici di Roma non posso andare a confermare. Detto questo, l'unico riprovero è questo uomo qua che vuole 8 milioni l'anno. Mi ha fatto spendere una paracca di soldi per la tua maglia. Non ho iniziato il campionato, non è un broccata una. L'unica cosa qua memorabile che posso ricordare è che è sbagliato di quel palazzo. Meno male si è vinta la partita. Male, 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 male. Noi non passeremo il girone. C'è chi dice poi troppo presto e pensi di fare, pensi di arrivare. Se arriva Europa League sono lo stesso coglione dell'anno scorso. Mentre arrivasse l'Europa League avrei qualche motivazione in più per giocarla, ma... pace. Perché c'è chi dice che pensa che dobbiamo vincere, che dobbiamo fare, che dobbiamo arrivare, ma io non ho detto mai niente. Dobbiamo vincere le partite. Quello sì, io voglio. Io credo che il Milan vincerà delle partite in Champions League da fare fino al girone. a meno una, due. Dovreteci soddisfazione. Non abbiamo cosa per farlo, non abbiamo... non abbiamo... non siamo attrezzati. Giusta la politica che finché il bilancio non torna positivo di grande mercato non se ne parla, è una cosa che è coincidentemente con la società. Perché è meglio fare un mercato grosso con bilancio positivo che tanti mercati buoni con un bilancio negativo. E io sono convinto che prima o poi quando il bilancio tornerà in verde invece che il rosso, non dico che è una squadra più forte nel mondo, però sicuramente il livello sarà un pochino più alto rispetto a quello adesso. Purtroppo, ripeto, ho detto molto libero, poi ci sono tanti 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 calciatori che sono la prima esperienza in Champions League e quindi vanno un pochino capiti. Niente, analisi io non me la parte con Chessino, non me la sento di prenderla con nessuno, me la posso prendere con Florenzi per essersi un pochino addormentato sul gol dell'1-1, di aver perso malamente Lemar. Me la posso prendere con Carlo Lufarro che... non ricordo che va visto e rivisto, eh. però il risultato non cambia ciò che ragazzi è andato in campo. Di solito mi vedete incazzato per le sconfitte, cioè parlo solamente lo più incazzato domenica per la vittoria con lo Spezia che oggi per la sconfitta con l'Atletico Madrid perché l'importante è come tu l'approcci una gara, come tu la giochi, come tu va in campo, con che mentalità la fai. Noi l'abbiamo fatta. Abbiamo giocato a Milan di Champions League, purtroppo la mentalità è da Milan di Champions League, purtroppo interpreti non so più di una volta. Noi siamo abituati male, siamo abituati a vedere un Milan di Champions League che va con Cafu, va con Maldini, Paolo. Va con Santos, va con Pirlo, va con giocatori che si vendono e giocano a pallone uguale. Purtroppo va in campo con Seri Makers, va in campo con Calabria, va in campo con Benazel, va in campo con Brian Diaz, che sono buonissimi i giocatori, però non sono assolutamente paragonabili a quelli che avevamo una volta con cui andavamo a insegnare calcio nei campi d'Europa. Vi permettetelo, ma una squadra che sulla sua spalla porta questo va a insegnare calcio in tutta Europa. Non ci sarà live reaction domani perché purtroppo stasera non erano possibilità per vedere la partita. Sicuramente nella live reaction ci sarà, sicuramente prova a farcela venire domenica per Atalanta-Milan, che sarà una partita molto tosta e in cui vi dico già che non sono sicuro di vincere, ma nel momento di pareggiare tra l'altro a Bergamo. e vi chiedo solito supporto. Lasciate il like per il video, se li vedete al canale. Lo sono incasso, sono piuttosto amareggiato. Mi dispiace, mi dispiace perché oggi non riproverò in mente niente. Grazie alla visione ragazzi, sempre Forza Milan, oggi più che mai. Grazie. Grazie a tutti.